Quando il leone scende in pista, gli avversari iniziano a tremare. Andiamo a scoprire l'impegno sportivo di Peugeot con il nostro ospite e, perché no, anche i nomi di coloro che avranno l'opportunità di vivere con noi un'esperienza da veri piloti. Cari telespettatori, ed eccoci tornati in studio per parlare di Peugeot, ma in una veste particolare vengo subito a presentarvi, gradito ospite, Eugenio Franzetti, direttore della relazione esterna di Peugeot Italia. Ciao Eugenio, bentornato. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E anche se nel nostro studio scuro l'RCZ scura magari non spicca, vi assicuro che questa sportiva sta facendo veramente far girare la testa a molti appassionati, perché questa 2 più 2 con tanti cavalli sotto il copone è veramente una grande sportiva. Assolutamente, questa l'RCZ per noi è sostanzialmente il simbolo, la nostra brand ambassador del nostro del marchio Peugeot. Esprime molto bene quello che è il motion and the motion, cioè il payoff con il quale raccontiamo il nostro marchio. È una macchina dinamica, moderna, una linea estremamente accattivante, veloce e che dà grandissimo piacere di guida. Dall'alto della tua professionalità e grande passione per tutto quello che è sportività, oltre alla grande attività nei rally in pista, abbiamo parlato spesso qui a Seedrive e a Seedrive Motorsport, vi siete inventati qualcosa di più per avvicinare il pubblico a poter vivere per un giorno da protagonisti in un autodromo e mi riferisco allo Speed Day. Tutti a Imola a provare queste vetture? È vero, beh, anzitutto la sportività fa parte del marchio Peugeot da sempre. Un marchio che ha più di 200 anni di vita, da oltre 120 anni produce automobili e ha cominciato subito a farle correre. Quindi il motorsport e le competizioni sono nel nostro DNA. Ma al di là di quello che lo spettacolo che facciamo per i tifosi, per il pubblico, che lo possano vedere le domeniche ai rally e anche in pista, sulle tribune, bene, abbiamo comunque il piacere sempre ogni anno di provare ad avvicinare ancora di più il nostro pubblico, i fan, gli appassionati del marchio e fargli provare concretamente in pista i nostri prodotti. In questo caso lo Speed Day è dedicato soprattutto all'RCZ, che come dicevo è la nostra vettura più sportiva. Va bene, abbiamo voluto veramente organizzare una giornata nel quale le persone possono provare le nostre vetture divertendosi fino ad arrivare proprio a provare l'emozione della pista. E noi di Speed Drive non potevamo che non sposare l'idea di Eugenio Franzetti e di Peugeot Italia. Bene, ormai siamo alla vigilia, tra qualche giorno tutti a Imola, insieme ad altri in Media Pattern che fanno parte di questa fantastica giornata. Eugenio, direi, ci siamo... Rullo di tamburi. Esatto, abbiamo recuperato le cinque persone che la redazione di Speed Drive, assieme a Peugeot, ha scelto e inviterà settimana prossima in quel di Imola. Perciò alzate il volume dei vostri televisori e sentiamo i nomi. È con grande piacere che saranno con noi a provare le splendide RCZ a Imola, Luigi Rosa, Nico Zavattoni, Edoardo Cotilli, Simone Mino e per ultimo Gabriele Bramati. Bene, abbiamo raccontato un po' quello che succederà in quelle di Imola. Ecco, una gamma RCZ che non è solo motori turbo, tra l'altro possiamo ricordare la novità, RCZ R con qualcosa in più, ma c'è anche il diesel che ha il suo peso. Assolutamente, una gamma che è pensata per tutti i tipi di automobilisti sportivi, per tutte le esigenze. Lato benzina, un motore 1.6 turbo che si sviluppa in tre potenze, 156 cavalli, 200 cavalli e l'ultimissima, come hai raccontato tu, l'RCZ R che arriva addirittura a 270 cavalli. Quindi una vettura che nella versione R addirittura sviluppa una potenza enorme per un motore 1.6 turbo. Potenza enorme gestita da freni da 380 mm, un assetto pensato apposta e costruito apposta da Peugeot Sport sulla base dell'esperienza delle competizioni per questa vettura. Quindi una vettura di grande divertimento con il differenziale autobloccante, quindi estremamente tecnica. L'esperienza delle competizioni è chiaramente molto molto presente sull'RCZ R, ma poi anche la versione diesel perché pensiamo a tutti i tipi di automobilisti, un 2.0 turbo diesel da 163 cavalli per le mozioni della guida sportiva ma anche pensare quindi a quello che è un utilizzo ancora più quotidiano, ancora più frequente della vettura. Abbiamo fatto rapidamente un elenco della gamma delle vetture, definiamole di serie, però nella gamma vi siete divertiti anche a proporre delle vetture particolari, abbiamo voluto anche creare sulla base dell'RCZ dei salti in avanti, come ad esempio fu l'RCZ Arlen S perché questo è un po' lo spirito di questa vettura. C'è una vettura pensata per quelli che amano la guida, che amano possedere un oggetto unico. La replica, invece l'RCZ Racing Cup replica, esprime anche in questo caso un legame con il mondo del motociclismo dove si usano fare delle versioni replica, delle versioni da corsa, bene lì abbiamo portato quello che è il know-how della pista su una versione unica da track day e quindi l'assetto studiato da Hollins che è il fornitore con cui gestiamo la vettura da corsa, Brembo ci ha fornito dei freni super performanti, motore preparato per veramente una vettura che regala l'emozione soprattutto nella guida in pista. R, io mi ricordo che non fin là di qualche mese or sono, nelle ultime fiere internazionali, R è finita anche su una 308 particolare, ricordiamo 308 Car of the Year, dunque la famiglia R potrà allargarsi in futuro? Può darsi, può darsi. Quello che è sicuro è che adesso abbiamo un motore a disposizione, un 1.6 turbo da 270 cavalli che quindi potrà anche essere montato nelle sue derivazioni anche su altre car line, sicuramente la 308 nei prossimi mesi avrà delle derivazioni sportive e quindi sul quale verranno utilizzati questi tipi di motore. Bene Eugenio, io concluderei con un in bocca al lupo dal punto di vista indubbiamente commerciale, un in bocca al lupo per la stagione sportiva che dopo un inizio un po' difficile, tante vetture nuove, sta prendendo una buona piega. Ricordiamo recentemente la vittoria di Paolo Anderucci al rally Targa Florio di Stefano Albertini nella piccola classe R2 con la 208, 1.6 aspirata. Noi di Safe Drive saremo sicuramente presenti allo Speed Day per raccontare sicuramente le gesta di chi abbiamo scelto ma per dare un po' un tono di colore a questa giornata sicuramente indimenticabile e lo sarà ancora più indimenticabile ricordiamo per Luigi Rosa, Nico Zavattoni, Edoardo Cotilli, Simone Mino e Gabriele Bramati che faranno parte del team di Safe Drive pronto a sfidare gli altri media pattern sul circuito di Imola tra qualche giorno.